E adesso ascoltiamo Angelo Barone di Cambiare Bagheria che accusa la maggioranza al Consiglio Comunale di arroganza. Il problema principale non è solo il riconoscimento dei ruoli, ma è soprattutto la mancanza di rispetto che ha la maggioranza verso una minoranza che non ha esitato a definirsi proposizione. Si è definita proposizione perché ci siamo aperti subito al dialogo, nonostante il loro muro e il loro atteggiamento chiuso che si potrà e sin dalla prima consigliatura. E sulle questioni di Aspera voi volevate dare un contributo concreto di proposta? Sì, noi intanto avevamo aperto il Consiglio Comunale proponendo di far illustrare il problema al Presidente di circoscrizione. Chi, meglio di lui, poteva illustrare i reali problemi che ci sono ad Aspera. Dopodiché volevamo aprire la discussione generale e proporre altre tematiche che non erano trattate nella loro mozione. Altre soluzioni. Altre soluzioni che non erano trattate nella loro mozione, quali ad esempio le ringhiere che dopo sono state messe, quali ad esempio il manto stradale, la segnaletica. Diciamo che si poteva parlare, purtroppo il Presidente, soggiogata devo dire, e suggerita molto male dal capogruppo di maggioranza, ha voluto mettere un bavaio applicando un articolo del regolamento che in quel momento per buonsenso e per la tematica che aveva il Consiglio non era applicabile, è stato inopportuno applicare.